Vieni tu a Romics. Intenta marcelo, vieni a Romics. Vieni? A Roma, a Romics. Vedremo. Dottor Delia, noi salutiamo, completiamo il collegamento con il dottor Delia, l'autore che è poi di Timida. E anche tu sei di Napoli. E anche tu sei di Napoli. Scusate, la nostra natura. E anche tu sei proprio a Fritta. Dottor Delia? Sì, perfetto, perfetto. Allora, dicevo, Dottor Delia, i voli gerati, come i più belli delle nostre terre, con paesaggi fialeschi.